Quando non mi sento bene, preferisco stare solo, ma al sopporto chi mi viene, a rivendicare un ruolo, infermieri, guaritori, totti, medici e sapienti, mi dispiace per gli amici, figuriamoci parenti. Quando sto davvero male, se sto solo è molto meglio, non mi serve al capezzale, chi controlli che son sveglio, ho bisogni, voglie e noie, che gestisco a perfezione, senza mille paranoie, di decine di persone. Non vi sembri troppo ingrato, questo sfogo personale, è che uno è già sfigato, se gli tocca di star male, perché mai dovrebbe avere, il dovere dimostrarsi, condividere il dolere, anzi proprio lamentarsi. Ma al comune è mezzo gaudio, male proprio è gaudio altrui, senza video e senza audio, anche dentro ai luoghi bui, preferisco riposare, ma nella misura in cui, mi si lasci rilevare, che conosco chi io fui. E non posso farci niente, sono il solito cazzone, non mi serve avere gente, né aspirine, né attenzione, né badare a quanto bevo, quanto fumo e quanto mangio, e dall'alto medioevo, che riciclo e che mi arrangio. A chi vuol volermi bene, suggerisco questo modo, cioè che ciò che più conviene, è lasciarmi nel mio brodo, anche se sono ammalato, non scassatemi l'umore, vi sarò per sempre grato, dal profondo del mio cuore.